La batosta è molto forte, non c'è dubbio, molto forte in una regione chiave, cruciale per la Germania. Ma io la leggo così e lo dico anche perché abbiamo rapporti molto intensi con le spese tedesche. C'è una parte della Germania, crescente, nell'opinione pubblica tedesca, che capisce che nessuno si salva da solo, molto semplicemente. Sta comprendendo questo, nessuno può salvarsi da solo adesso. Si può anche dire così, la speculazione nel mondo ormai è talmente forte da poter togliere la sovranità ad ogni singolo Stato. A uno a uno può togliere la sovranità ad ogni singolo Stato. A meno che noi non condividiamo in Europa la sovranità e non reagiamo assieme. Perché se è così ce la facciamo. Se no, con queste idee che fin qui hanno governato a uno a uno, possiamo andar nei guai tutti. finisce come i dieci piccoli indiani, una alla volta, compresa la Germania a un certo punto. Mi pare che questa idea cominci a farsi strada. Spero che si faccia strada rapidamente perché non abbiamo tantissimo tempo, purtroppo.